Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo mio nuovissimo let's play, siamo su Lego Harry Potter anni 1-4. Siccome il mio let's play di Lego Harry Potter è piaciuto moltissimo e continua a piacere molti di voi, ho deciso di fare la versione Nintendo DS di questo gioco, per cui iniziamo subito con una nuova partita. Tocca ai personaggi con sopra un lampo dorato per ricevere delle missioni da compiere. Ok, come potete vedere siamo Harry, possiamo già prendere le nostre monete e a differenza di Lego Harry Potter per PC o comunque qualsiasi altra console, iniziamo a casa dei Dursley. Prendiamoci tutte le monetine che ci possono servire e parliamo con Vernon, credo. Ah, devo toccarlo per forza, ok. Ragazzo, ho un lavoro per te. Devi aiutare Dudley a trovare due dei suoi regali. I regali di Dudley. Vernon ti ha chiesto di trovare due regali, cercali per la casa e torna da Vernon, ok. I personaggi con sopra una stella blu sono importanti per la missione in corso. Sarà meglio che trovi i miei regali, Harry. Ok, sei stato veramente molto utile. Un nuovo personaggio è stato aggiunto al tuo gruppo? Ah, ok, Dudley si è aggiunto al gruppo. Guarda tutti questi regali, Dudley, non ti bastano? Non posso fare niente? No, non posso distruggere niente. Oh! Dudley. Gli oggetti contornati di viola possono essere usati da un membro del tuo gruppo? Ok, proviamo a cambiare in Dudley. Tocca l'icona del tuo personaggio per cambiare personaggio. Ok, l'avevo capito. Tocca gli oggetti contornati di verde per interagire con loro. Ok, quindi possiamo spostarli. Ottimo. Puoi cambiare rapidamente tra i personaggi del gruppo aprendo e il pulsante R. Ok, quindi R. Ok. Bene. Abbiamo preso uno dei regali di Dudley. Ci manca il secondo, probabilmente si trova al secondo piano. Perfetto. Ci sarà un tasto per interagire? No, devo per forza toccare. Ok. Ho trovato uno dei tuoi regali tesoruccio. Eccolo qua. Perfetto, abbiamo trovato tutti i regali. Credo che non possiamo fare nient'altro al momento. Per cui limitiamoci a scendere giù. E a portare i regali di Dudley a zio Vernon. Ciao Dudley. Quelli sono tutti i tuoi regali. Ben fatto. Missione completata. Nuova missione. La possa dovrebbe arrivare presto. Di al tuo cugino di controllare lo zerbino. Per questo. Di al tuo cugino di controllare lo zerbino, per favore. Ah, presto? Ok. La lettera. Sicuramente ci sarà anche quella di Hogwarts. Eccolo. 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 E finalmente siamo al paio lo magico Che Dio mi benedica Harry Potter Harry potresti farmi un favore? Alcuni dei miei clienti hanno chiesto di incontrarti C'è qualche possibilità che tu faccia loro un saluto veloce? Ma certo! Prendiamoci come sempre tutte le monetine La mappa sullo schermo superiore ti aiuterà a completare gli obiettivi della missione Dirigiti verso le stelle blu Come potete vedere c'è la mappina nell'altro schermo Stiamo a parlare con questo personaggio Bentornato Harry! Bentornato! Perfetto Ci sono altri due personaggi con cui dobbiamo parlare Però io prima voglio prendere un po' di monetine Ah non possiamo salire su per il momento Qui c'è un altro personaggio Doris Crawford Harry Potter Non posso credere ai miei occhi Eh Doris Crawford ha salutato diverse volte Harry Potter Ma non credo che esca negli altri libri Meno che non viene nominata nei doni della morte per qualche motivo Vabbè proseguiamo Qui c'è ovviamente il nostro insegnante Harry Potter Non puoi immaginare quando sono contento di incontrarti Harry Questo è il professor Raptor Missione completata Ben fatto Harry Dovremo andare adesso Ok E andiamo Si prosegue verso Ok pensavo ci sono filmato Per questo ho fermato Quello che sto dicendo Toccando quel muro con il mio ombrello Si aprirà un varco per Diagon Halley Beh Quindi posso cambiare in Hagrid Perfetto E toccare il muro Il muro di Diagon Halley Guarda i mattoncini Dominare il muro E ripeti la sequenza Riceverai una ricompensa in gettoni maggiore Se riceverai il primo tentativo Ok Rosso Blu Giallo Giallo Ok Rosso Blu Bello Ottimo lavoro Questa è la seconda Ha solo una sequenza Ok Grazie E abbiamo aperto il muro Perfetto Benvenuto Henry a Diagon Halley Da un'occhiata in giro Mentre aspettiamo che La gringo t'apra Ok Beh adesso sono un po' Hagrid Va Qui c'è un Un fulmine Vediamo un po' Di chi si tratta Puoi aiutarmi a prendere i miei topi Sono scappati Ok Prendi i topi Li posso prendere con A O Devo usare lo stilo Non lo so Ok Penso che li devo semplicemente toccare Vediamo Hagrid Ce la fai Sì Bene Ah c'è un altro lì L'ho visto Forza dai Prendilo Hagrid Bene Dai 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 Perfetto Ci manca quest'altro Ce ne mancano due in verità Ok ora ce ne manca uno Vai prendilo Hagrid Ce la puoi fare Perfetto Abbiamo preso tutti i topi Sono tutti Dovremmo portarli a proprietario Del negozio di animali Non so cosa comprare Un gufo Un rospo Beh Ti consiglio un gufo Almeno puoi mandare la posta Ottimo lavoro Ora devo sistemare la loro gabbia Missione completata Wow Un cappello Perfetto Uno di cinque Ecco un cappello magico dorato Per ogni dieci Che nei collezioni potrai vedere Un modello lego Nella stanza delle necessità C'è la stanza delle necessità Di già Ok È il momento di dirigersi Verso la Gringold Harry Ah bene Ok Hagrid Adesso voglio essere un po' Harry Però Ah Harry Sembra più veloce Harry Però non so se È effettivamente veloce Ok Pare che gli altri tasti Non facciano nulla Mi sto provando Mentre cammino Ed ecco qua Tutte le nostre Belle monetine Non so se serviranno molto Ma Me le prendo lo stesso Chissà magari Servono per comprare Oggetti Entriamo nella Gringold Vai alla banca Gringold Ci sono Ci sono Sono un casino di monete qui Oh guardate qui Quante monete Bene Ok si È il passo di Harry Qui non posso fare nulla Non conosco ancora Nessun incantesimo Di questo tipo Come si sentono i passi di Harry Stiamo per Avere il mago autentico Quello che mi state dicendo La seconda Della Esatto Bene Abbiamo intanto il mago autentico Quindi adesso possiamo parlare con Il folletto Ok 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 Sbloccato Rubel's Hagrid Sbloccato Private Drive, gioco libero Continua la storia, assolutamente sì E ci troviamo alla camera blindata della Gringot Benvenuto alla Gringot, dobbiamo trovare ed aprire la camera blindata 687 Ti mostrerò dov'è Ok, quindi si è aggiunto un altro personaggio, ottimo Proseguiamo Solo i personaggi forti possono azionare le maniglie a rotazione, tipo io Hagrid è un personaggio forte Disegno un cerco sul touchscreen per girare la maniglia Ok Un bel po' di cose hanno messo Perfetto Prendiamoci come sempre tutte le monetine e proseguiamo Non so se questi cosi si possono distruggere ma Questi plinti possono essere usati solo dai folletti come unci unci Ok, vediamo un po' che servono Plinto del folletto Girare la ruota dentata Rimani sempre vicino al punto verde mentre si muove lungo la traccia intorno ai denti Aspettate Ah ok, devo seguire il punto verde con il touchpad Ok, 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 è facile, è facile E il ponte si è formato, grande Proseguiamo Altre monete Ok, qui non so proprio cosa fare Vabbè, qui serve Hagrid Ci stiamo allontanando dalla zona Chissà magari qui c'è un segreto Non lo so No Ok, ci siamo già presi tutte le monete Tra l'altro effettivamente Qui manca una moneta, non l'ho preso C'è la mappa, dovrei guardarla di più così posso vedere effettivamente Il livello come è composto Ok Perfetto Ahah Direi quindi che possiamo andare a fare quest'altra cosa Se la musica si sente poco è perché l'ho abbassata al minimo possibile Perché Per un semplice motivo Un tipo di copyright Vi ricordo che i giochi Lego utilizzano la colonna originale Del film Perfetto Direi che possiamo andare a La nostra camera blindata, vero Onci Onci Ok Beh, voglio essere un po' Harry Qui serve Hagrid Oh, lì c'è un cappello Qui serve Hagrid Vediamo un po' che cosa succede Ok Qui si prosegue Lì c'è una stella Missione Volevo vedere effettivamente che cosa c'era qui in fondo Questa è una cosa che non possiamo fare Per cui Immagino che dovremmo semplicemente proseguire per di qua Ricordo di aver fatto questo gioco un po' di anni fa Quando ero uscito sul DS Solo che L'avevo fatto solo una volta e non ricordo praticamente nulla Ok Si è formata una scala Qui ci sono altre monete Qui non posso fare nulla Si è formata la scala Direi di scendere Vediamo un po' che cosa succede Qui c'è una missione Qui ci vuole Hagrid di nuovo Ok Ok, bisogna fare esattamente Come con Dudley Visto che Dudley era un personaggio forte per qualche motivo E lo è naturalmente anche Hagrid Spostiamo questa roba qui Bene Ottimo, direi che Abbiamo fatto anche questa E facciamo anche questa Ok, finora niente di complesso Questo minigioco è facile Ed è anche divertente, dai E si è aperta una zona segreta Credo che sia una delle camere blindate La camera blindata 687 Vabbè, non sarà difficile trovarla C'è la stellina nella minimappa che ci guida Per cui andiamo di qua Ed eccoci qua Ovviamente credo che devo usare unci-unci Altrimenti non posso aprire la camera blindata, credo E si, entra nella camera blindata Bene, prenditi tutti Harry Tutti cosa? Tutti i denari? Uuuhuuhu Uuuuhu Oh 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 Beh, devo essere assolutamente Harry Prendi Harry Wow, altre monete E' mago autentico Adesso faremo meglio Ad andare a cercare le tue cose A Diagon Hollow Missione completata E quindi altro cappellino per noi E si sale Altro cappellino Yeah Ok prendiamoci tutte Le monettine Wow Ne abbiamo veramente un casino Ben 33.000 E più E abbiamo completato a quanto pare anche il secondo livello Mago autentico Soltanto due cappellini Ottimo Abbiamo sbloccato unci unci Questo niente Sbloccato le camere abilitate della Gringot Gioco libero Continuiamo la storia Se hai ancora bisogno di una bacchetta Vorrai visitare Ollivander Ok Compro una bacchetta d'Ollivander Assolutamente sì Lo faremo subito Lo voglio fare subito Così dal secondo episodio Siamo già a Hogwarts O almeno Quasi a Hogwarts Voglio fare tutta la prima parte Adesso Vedo che Sono un livello dopo l'altro Diverso dalla versione PC O comunque switch O qualunque altro tipo Bene Prendiamoci anche queste monete E anche queste Ehi ehi Mi fai passare Grazie mille Devo andare da Ollivander Ed eccoci da Ollivander Credo Prima di parlare con i pro Voglio prendermi le consuete Monetine Bello 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 Ok penso non si possa fare altro Non conosciamo incantesimi Non sappiamo nulla Finalmente avremo la nostra Prima bacchetta magica Ah Harry Potter Prendi la bacchetta lassù E vediamo se è adatta a te Vediamolo subito Vediamo se riesci a distruggere Questo vaso Per lanciare Reducto Di già Fai scorrere lo stito Del tuo personaggio Verso un obiettivo Boom Oh my god Oh cielo C'è un'altra bacchetta di sopra Prendila e provala Ok Blem Di nuovo punta semplicemente La bacchetta verso il vaso Vediamo se è quella adatta La bacchetta Sì sì Ok Scendiamo Vedete come Harry adesso Ha in mano una bacchetta Boom Neanche questa è adatta Signor Ollivander Mi dispiace No no Io ancora no Mi stavo chiedendo Ci dovrebbe essere un'altra bacchetta Vicino alle mensole di sopra Ok Questa dovrebbe essere quella giusta Harry Harry non ti incartare per favore Sei fatto di Lego Di nuovo Punta semplicemente la bacchetta Verso il vaso Vediamo se è quella Si adatta meglio a te Reducto Wow Ecco fatto Quella è la bacchetta per te Puoi ridarmi le altre due bacchette Per favore Certo Non volevo di certo Collezionarle Non sono figurine Streghe e maghi famosi Ti suggerisco di prendere adesso I tuoi libri Harry Perfetto Abbiamo la nostra bacchetta Direi che possiamo andarci A prendere allora i libri Per trovare il Ghirigoro A dirci verso il punto verde È iniziato sulla mappa Indicato sulla mappa Ah come potete vedere Il Ghirigoro è protetto Ma adesso posso distruggere Tranquillamente I barili Ottimo Alcuni suoni mi ricordano qualcosa Come se avessero usato Lo stesso Comparto sonoro Di Di Tomb Raider Per Game Boy Advance Non vorrei dire Ma è molto simile Ok Entriamo al Ghirigoro Wow c'è un bel po' di roba qui Il libro mostro dei mostri Ha masticato metà dei nostri libri Potreste aiutarci a ripararli? Per lanciare il reparo Tocca la pila di pezzi E poi copia la forma che appare Oh di già il reparo? Cavoli ci stanno insegnando Tutti gli incantesimi Prima ancora di andare ad Hogwarts Vabbè lo farò Lo farò senz'altro Iniziamo subito Iniziamo da questi Reparo Ah devo soltanto Fare questo Ma è sempre la stessa Oppure no? Vediamo Pare che sia sempre la stessa Perfetto E il reparo ancora Facile 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 Ok dopo un po' scompaiono le monete Però non importa Qui c'è un altro reparo da fare Facciamolo subito Bene Posso cadere da qui? No non posso Ok A quanto pare già da quest'anno Hanno il libro mostro dei mostri Mi chiedo come sia possibile Ma a quanto pare hanno delle copie Eeeh Sbam Prendiamoci le monettine E altro reparo Ottimo Sono stato veramente bravo Tu non mi fai passare Non importa Vai Hai ordinato tutti i libri Qui c'è qualcosa per i tuoi sforzi Missione completata Grazie per avermi dato i libri Ok allora posso andare Ottimo lavoro Ancora bisogna degli abiti Harry Ah Andremo da madama McLean Abiti per tutte le occasioni Oh cielo Sembra che alcuni libri mostri Siano scappati Dovrai sbarazzarti di loro Utilizza Reducto E se finisci nel guai Prova Stupeficium Distordirà per un po' Ok Sì Reducto Libri sconfitti Uno di cinque Per un certo superficie Disegno un cerchio Attorno al tuo personaggio Stupeficium Vorrei provarci ma Ok un cerchio Attorno al mio personaggio Così O forse intorno a questo Boom Ah Ok Serve per stordirli Però no Meglio direttamente Reducto Ok Libri sconfitti Tre di cinque Chissà dove sono gli altri Ecco Ah sono tutti e due qui E meno uno Vai E meno due Da lontano proprio Perché Harry ha una mira da cecchino Perfetto Ottimo lavoro Hai ancora bisogno degli abiti Harry E sì lo so È un vero peccato Che non si possa premere A Per poter andare avanti In i dialoghi Perché è veramente fastidioso Dover per forza Iniziare lo stilo Però vabbè Guarda che disordine Può dire ciò che ha fatto A Grigoro Ok Ho letto velocemente Però Devo praticamente Riordinare la porta Per poterla entrare Da Madame McClain Va bene Ciao Harry Avrei bisogno di abiti Però Gorsi immagino Direi proprio di sì Però prima Per favore Mi fai prendere tutte le monetine Certo che me le fai prendere Ok Devo dire che questa sezione extra Alla Pai la magica è bella Molto interessante Qui sono altre monetine Immagino Grazie mille Non Bloccarti Harry Qui Questa porta Non si apre Ok Di qua non c'è nulla Soltanto altre monetine Che se se raggiungiamo Il mago autentico Anche in questo livello C'è un abito perfetto Per te di sopra Vai al camerino E provalo Ok Di là Ottimo Abiti Forse in quell'armadio Harry parla Ed eccoci negli abiti di Hogwarts Caspita Quelli sono perfetti Harry Vai a parlare con Madame McClain Per comprarli Uuu Con tutto il mantello svolazzante Che bello La taglia perfetta Missione completata Perché Harry però La faccia viola Oh quasi mi scordavo Ho un regalo per te Buon compleanno Harry Questo gufo è per te Harry Gli animali possono aiutarti A trovare oggetti nascosti Quando arrivi a un raggio di distanza Vicino al punto di percezione animale Un'icona che mostra Il tuo animale annoiato Apparirà in alto a destra Del touchscreen Oh my god Quando ti stai avvicinando Ad un oggetto nascosto L'icona dell'animale Appare eccitata Ok Quando sei sopra Al punto di percezione animale L'icona dell'animale Comincerà a lampeggiare Se ti allontani Dall'oggetto nascosto L'icona dell'animale In intera di nuovo annoiata Ed eventualmente Scomparirà del tutto Ok Prova a trovare L'oggetto nascosto Quando l'icona dell'animale Comincia a lampeggiare Toccalo Ah devo toccare l'animale Perché non dà un'occhiata Per trovare qualcosa Prova di là E vabbè Qui è facile Quindi tocco ed vige No Ok Tocco ed vige Perfetto Ottimo lavoro aeree Hai scoperto Un barrile nascosto Dai fallo esplodere Perché no Vai Bomb I mattoncini rossi Sono presenti In alcuni livelli E si sblocca Un'abilità speciale Che puoi acquistare Al negozio Ok Quale negozio Non me lo dici Ecco Sarà meglio Che andiamo Alla stazione Di King's Cross Puoi prendere il treno Per Hogwarts Finalmente E abbiamo preso Perso Perso Preso Un mattoncino Rosso su uno Ottimo Questo è stato facile Era praticamente Il tutorial Pare non ci siano Altre Cose Però forse Distruggendo alcuni barili Riescirò ad ottenere Il mago autentico Non vorrei dire Aha Qui ci vuole Un bel reparo Facciamolo subito Vediamo un po' Che cos'è Tanto comunque Poi si possono Rigiocare i livelli In modalità Gioco libero E riprendi Le monetine Riesce a salire Non posso Salire Saltare Non posso fare nulla No Ok Andiamo di qua E Livello Completato Perfetto Stavolta niente Mago autentico Però abbiamo Sbloccato Il reparo Abbiamo ottenuto Nessun cappellino Però abbiamo Sbloccato Engorgio Scullus E ovviamente Abbiamo sbloccato Harry Hogwarts Sbloccato Fare comprare Diagonali Gioco libero Bene ragazzi Direi che Possiamo Completare la storia Nel prossimo episodio Spero che Quest'idea di let's play Vi sia piaciuta Fatemi sapere Cosa ne pensate Nei commenti Noi ci vediamo presto In un prossimo video Ciao Ciao Grazie a tutti.